Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 16 dicembre, si ricorda Santa Adelaide. Adelaide è un antico nome tedesco, significa di nobile aspetto. Dice il proverbio, gradito l'invitato che non è aspettato. Sono nati oggi Ludwig van Beethoven, Jane Austen, Luisa Ranieri. Il 16 dicembre del 1087 segna la nascita di un monumento alla cultura, l'Università di Bologna. L'Alma Mater Studiorum è la più antica d'Italia e tra le prime a sorgere in tutta Europa. Il 16 dicembre 1965 viene lanciata da Cape Canaveral la sonda Pioneer 6 con l'obiettivo di effettuare ricerche sul vento solare, il campo magnetico solare e i raggi cosmici. La sonda raggiunse il record di longevità, restando in funzione per 30 anni. Infine, il 16 dicembre 2004, la Gazzetta dello Sport cambia il celebre colore rosa in verde solo per un giorno, per promuovere l'uscita nelle sale del film Shrek 2. Oscar Wilde ha detto, l'egoismo non consiste nel vivere come ci pare, ma nell'esigere che gli altri vivano come pare a noi. Arrivederci da Barba Nera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia.